Valorosi cavalieri, grazie per essere arrivati fin qui, accettando un pericoloso incarico che metterà a rischio la vostra vita. Vi insegnisco del titolo di campioni di Hyrule, che questi drappi ne siano testimonianza. L'azzurro, da innumerevoli generazioni, è il colore del nobile lignaggio della nostra famiglia reale. A realizzarli per voi è stata mia figlia Zelda. Zelda, ti affido un compito essenziale che solo la principessa ereditaria può adempiere. Vida i campioni in battaglia, proteggi Hyrule e libera il regno dalla funesta minaccia della calamità a gara. Che barba! Queste situazioni formali non fanno per me. Sarebbe questa la tavoletta shaker? Dovrebbe avere svariate funzioni molto utili. Stiamo provando a comprenderle, ma purtroppo non abbiamo fatto molti progressi. La principessina me l'ha fatta usare l'altro giorno, sai. Può creare delle immagini che sembrano avere. Che bello! Voglio provare anch'io. Principessa, ti prego, mi fai vedere come funziona? Perfetto, cercate di non muovervi troppo. Guardate tutti la tavoletta shaker. Tarouk, non ti puoi abbassare un po'? Ma quanto sei grosso! Oh, e va bene. Principessa, sei troppo seria. Fai un bel sorriso. Revali, avvicinati agli altri. Che pazienza. Mi fa non essere così tesa. Un bel respiro profondo. Sì. Tutti pronti? Guardate da questa parte, sorridete e clic! Grazie a tutti!